Caro futuro, ho un paio di cose da chiederti. Prima di tutto, come stai? Mi stai aspettando? Io mi sto preparando per raggiungerti. Nonostante tutto, studio, gioco e divento sempre più forte. Ma non sono da sola. Siamo in tantissimi e un giorno diventeremo grandi. Grandi nello specchio, certo, ma anche grandi sognatori, avventurieri, inventori. Ti faremo domande e ci aspetteremo delle risposte. E tu sei pronto per noi. Stiamo crescendo per te, non deluderci e non avere paura. Ci penseremo noi a renderti bello. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao, a presto.